Che fine farà la Sacra Osteria? Che è alle mie spalle, questo è uno degli ingressi, poi ce n'è uno laterale proprio in Via Campomarzio di fronte alle altre attività commerciali e rientrerà anche questo sito nella grande riqualificazione del mercato ortofrutticolo? Questa è la domanda che è arrivata ieri via Mail. Allora, intanto per rispondere a Bernardo, tutta quell'area lì verrà venduta perché verrà fatto il grande mega parcheggio per chi arriva dal molo settimo chi arriva da Barcola avrà il molo quarto e il parcheggio lì chi arriverà dal molo settimo avrà questo parcheggio sopra naturalmente ci sarà una zona commerciale è una zona che è quotata a 25 milioni di euro per cui bisognerà fare ovviamente una gara a carico ai cittadini e diventerà secondo me una delle più belle zone della città sia sotto il punto di vista commerciale altrimenti ho visto dei progetti che vogliono fare anche un albergo per cui la sacra osteria era la storia a suo tempo adesso non c'è più perché verrà tutto rasato il suolo e verrà fatto un parcheggio sotterraneo enorme e probabilmente dai progetti che ho visto passeremo sotto per cui ci sarà la possibilità probabilmente anche addirittura di chiudere la Giulio Cedere questo tema che lei riconduce a quello che è la storia quindi Contovello e Laghetto o un segnale preoccupante? beh insomma io ho cacciato per anni la mia riserva era Duino all'ermada e si trovava di tutto ma di tutto anche l'ultimo incendio dello scorso anno sono esplode centinaia di bombe pensa che gli italiani da grado tiravano quelle bombarde e la storia letta sui libri e non detta a caso gli italiani spararono sull'ermada 4 milioni di colpi con i canoni quindi è un ritrovamento bellico è un ritrovamento bellico l'importante è fare, creare sempre polemiche dal primo giorno hanno fatto polemiche per i lavori lì alla ghettina sì lasciateci allora nessuno ha mai messo le mani adesso che mettiamo le mani che lo puliamo da quella fanghiglia non va bene non va bene allora dico state zitti un attimo invece figurati specialmente la sinistra sempre pronti a criticare adesso si blocca il cantiere se fermo il cantiere per questa cosa qui ma che farmi quantiere due palottole cosa vuoi che siano le mie due bombe